La pallante Roma è la città nella quale sono nato e ho mosso i primi passi nella nuovietta musicale e a metà degli anni 90 suonavo in locale, un club abbastanza famoso qui in città e all'inizio degli anni 2000 ho avuto invece la fortuna di poter dare vita ad un collettivo di musicisti incredibili il collettivo Angelo Mai, nato all'interno dello spazio occupato nel quartiere Monti qui di Roma è stata sicuramente un'esperienza più intensa che ha segnato poi il mio lavoro e la mia carriera musicale Si racconta così Massimo Giangrande, classe 1973, cantatore romano e polistrumentista dallo spirito internazionale che lo porta fin da ragazzo a girare l'Europa e il mondo in cerca di suggestioni musicali e culturali Dopo una produzione in italiano si fa sempre più strada all'esigenza di cantare in inglese coniugando il suo amore per il folk d'autore a sonorità più moderne L'inglese mi aiuta in questo a poter avere un'utilità maggiore nell'utilizzo della voce e della vocalità Oggi nonostante la pandemia Massimo Giangrande è al lavoro per il suo quarto album Metal Rain è il singolo che anticipa l'uscita del mio prossimo album The Hives of Resistance All'interno della canzone parlo della ricerca di un paesaggio interiore inteso come forse l'unico gesto ancora possibile e rivoluzionario per l'uomo così moderno Un momento difficile come quello che stiamo vivendo Far circolare bellezza e contenuti mi sembra un gesto doveroso E parliamo di un'impresa